guardate cosa ho qua dietro le mie spalle il mio smart tv con windows qua sopra una piccolissima tastiera con touchpad e la goduria è totale e allora oggi un video che non si filerà magari nessuno ma lo sapete mi piace davvero sperimentare e provare a volte ho fatto video dove parlo di notizie che possono essere utili e mi va di condividerle e magari poi qualcuno nei momenti va a scrivermi che se non parlo di droni perdo la sua stima e quant'altro ma ragazzi non scherziamo io qua come dico dal primo giorno che ho aperto il canale mi diverto e i droni sono la mia grandissima passione e parlo spesso di questo argomento ma qui condivido cose utili idee innovazioni tecnologiche cose che parlano di tecnologia prodotti interessanti insomma non ci sono solo i droni e così ecco che nasce il video di oggi magari come succede spesso video dove non ci sono droni e hanno interessi magari minori molto meno rispetto al solito e allora ecco che parlo di daniele e vi domanderete ma chi è biggesto daniele daniele è un mio amico che ringrazio per avermi prestato il suo mini computer e fatto provare un oggettino tecnologico che non avevo mai testato e lui che porta sempre dietro in borsa con la sua piccola tastiera questo piccolo oggetto insieme a questo touchpad wireless mi ha incuriosito e ovviamente ve ne parlo insomma un pc che attacca a casa a giro a un monitor ma soprattutto anche a uno smart tv come questo alla presa hdmi ma iniziamo dall'inizio si parla di tecnologia ma si racconta anche nella tecnologia una storia davvero carina e la storia è questa ero insieme a daniele a vedere una commedia a teatro a firenze lui ci lavora lì a firenze e quando apre la borsa per cercare una cosa all'interno che non riusciva a trovare mi dice simu lo tieni un attimo questo è attaccato il cavo ma ve lo faccio vedere che è questo e me lo passa cavolo figo di dio bellino è un mini computer ma che ci fai con questo e lui mi racconta di usarlo in ogni dove lo attacca ad uno schermo ad una tv una tastiera wireless e via come vi ho appena detto io gli ho chiesto istintivamente e ovviamente non fai più veloce come un portatile scusa perché ti prendi sto mini computer domanda che credo sia abbastanza lecita no non vi pare ecco lui mi ha detto guarda con questo io faccio di tutto ho le mie cose di lavoro vado a casa lo attacco alla tv mi riguardo le presentazioni che preparo proprio al lavoro ma non solo quando vado a fare corsi lo attacco subito al volo alla tv o a un proiettore e via e poi arrivo a casa l'attacco alla tv appunto per guardare dei film gratis usando un boot di telegram questa storia dei film gratis mi interessa ho detto va approfondita poi mi dice ho i tablet per quando sono a giro e mi va benissimo certamente potrei fare le stesse cose con un portatile ma se lo provi ti renderai conto di quanto sia ganso questo piccolo piccolo computer ma remma impestata gli ho detto allora vista la mia passione per queste cose bisognerebbe assolutamente che lo provasse anch'io e lui mi ha detto guarda amiche ne ho uno da configurare in ufficio eccolo qui te lo porto e ti ci diverti e poi me lo ridai e visto che qui mi diverto nel canale e mi sono divertito a usarlo ci ho fatto un video e ve lo racconto perché mi ha davvero incuriosito e divertito e mi sta tuttora divertendo ve lo racconto magari qualcuno si appassiona come me a questo oggetto vedete ragazzi qui c'è windows c'è tutte le icone c'è il televisore che praticamente è diventato un pc questo che mi ha dato per provare a configurare un gecom mini air 11 un mini pc leggo che ha un processore intel quadricore celeron di ultima generazione ha una memoria DDR4 8 gigabyte ha 8 mega di ram un ssd da 250 giga è bello solido e ha preinstallato al suo interno windows 11 pro addirittura si può collegare a due monitor contemporaneamente usando le porte hdmi e mini dp lui monta una scheda grafica una intel ultra hd e supporta una risoluzione in 4k ultra hd e poi guardando un po' dietro ci sono diverse porte ovvero due usb tape c tre porte usb una porta hdmi e una mini display port ovviamente ha una lan wireless integrata per connettersi a internet collegandosi al wifi ovviamente lo fa in modo veloce e davvero funzionale al bluetooth che consente appunto di connettere dispositivi appunto abilitati ad esempio che dire ho anche molto interessante questa piccola tastierina vedete con l'hunchpad e è davvero incredibile usarla dal divano ma tutto era iniziato con una scatola senza nessuna tastiera ma verrà dato questo è solo il computer dentro e allora mi sono attaccato alla mia tastiera con filo mouse con filo alla mia tv in cucina e ho configurato tutto è stato davvero incredibile allora grazie Daniele che mi hai fatto divertire nel fare proprio la mia prima configurazione è davvero facilissima mi sono divertito così te lo trovi configurato te l'ho installato anche qualche cosina adesso si vedrà ma in effetti i fili contro fili per il mouse e la tastiera non erano proprio il massimo allora gli ho detto cavolo ma la tastiera è un celai da dammi e lui mi ha detto ha ragione ti ho dato solo la scatola e mi sono dimenticato di portartela e allora me l'ha data la tastierina che mi ha detto ha preso su Amazon e guardate come è bellina spettacolare una volta che ho configurato tutto magari prima di ridargli il mini pc lo disinstallerò ho però provato ad installare filmora eccolo qua vedete lassù il risultato è stato davvero soddisfacente non è un fulmine ma si riesce a fare anche con questo editing in modo discreto comodamente dal mio divano e dietro la camera verso il televisore insomma ancora non gli ho ridato niente ho ancora tutto io perché sul divano posso appunto attaccarlo al mio tv 55 pollici e lavorarci come se avessi un grandissimo pc in soggiorno è davvero uno spettacolo ma ora devo fare l'ultimo step prima di portarlo ovviamente vorrei come mi aveva detto divertirmici a vedere qualche film gratuito e mi ha già un po' spiegato come procedere e che dire magari iscrivetevi al mio canale telegram che appena chiarisco la procedura sicuramente la condividerò proprio là sopra come vedere film gratis ovviamente con un computer bene la tecnologia è la mia vita e se qualcuno ha apprezzato questo mio video ne sarò felice e dimostratemelo con un like qua sotto iscrivetevi al canale perché se qui è vero che si parla spesso di droni si parla anche spesso di cose interessanti a livello tecnologico ci si vede dai bighe col mio schermo 55 pollici con sopra lui ovvero Gercom Mini Air 11 davvero incredibile ciao ragazzi alla prossima dai bighe